l'8233 vaticano allora questa è un'accumulazione cercherò di farveli vedere quanto possibile perché sono messi tutti così vorrei evitare di piegare o far danno qua ci sono i foglietti di benedetto sedicesimo quindi e 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 le serie sono complete ovviamente e 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 c'è pure qualche emissione congiunta libretti e e e e e e e e pazienza per queste cose le sistemo vado avanti velocemente giusto per far capire quanta roba c'è questi sono tutti singoli tutti messi nella busta non sono in grado di dirvi se le annate sono complete questo non lo so dovrebbero essere complete però uso il condizionale perché non ne ho la certezza e 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 qua ci sono buste sempre con foglietti e e e e e e e e e qua ci sono gli interi postali e infine questa lì qua se volete altre informazioni scrivete a filateliachiocciola4baiocchi.com